Benvenuti a degustazioni in crociera, vino sulle onde, terza tappa, siamo a Barcellona, oggi grande giornata di vini spumeggianti, abbiamo sicuramente grandi novità, avremo sicuramente la possibilità di farvi conoscere un personaggio unico nel suo genere, un produttore che ci segue ormai da due stagioni, grazie di essere intervenuto, sto parlando di Antonino Iuculano, non solo, oggi avremo come al solito i nostri giornalisti che presenteranno le loro aziende come Liliana Savioli presenterà l'azienda Parovel con Vitoska, Franca Bertani ci presenta l'azienda Selva Capuzza, campo del soglio del vino che assaggieremo oggi, una grande doc San Martino della Battaglia, poi per quanto riguarda tenuto e roletto avremo proprio il produttore Antonino Iuculano che ci presenterà il suo vino, le sue bollicine e poi Camaiol con Renato Rovetta, Casata Monfort e ancora una volta Villa Bella per parlare del Bardolino, grazie e naturalmente buona degustazione. Grazie